I botti illegali sono già vietati, è inutile creare sovrastrutture formali che non servono a niente, qui è una questione di civiltà e di rispetto delle norme, i botti illegali sono già vietati dalla legge, tanto è vero che in questi giorni si stanno facendo sequestri enormi da parte di tutte le forze di polizia e se ne faranno altre nei prossimi giorni perché so che è stato messo un piano di prevenzione e contrasto molto efficace, quindi non c'è bisogno di altro, non ci servono palliativi per far vedere che si fa qualcosa che poi non è efficace, c'è la legge che va rispettata e ci auguriamo, come ho detto poc'anzi, un grande senso di collaborazione di tutti i pattenopei, di tutti i cittadini, di tutte le persone che vivono a Napoli, ci sono tante cose da fare all'ultimo dell'anno, sicuramente si può evitare di sparare botti vietati, ripeto vietati dalla legge.